Quando si tratta di essere in coalizione fino alla fine è meglio essere scaramantici. Oggi si è stata presentata ufficialmente la persona che cercherà di portare via il posto Cucagna Duino-Resina. Stiamo parlando di Daniela Parlotta che per dieci anni fu braccio destro della giunta di RET. Saranno diverse le liste che sostengono la pallotta. Ci sarà forza Duino-Resina, quindi non forza Italia. Ci sarà il simbolo della Lega Nord e poi dopo ci sarà la lista di Giorgio RET assieme ad Autonomia Responsabile. Tutti discorsi di apertura nei confronti di quelle liste civiche e quelle forze politiche che vorranno rimettere insieme il comune di Duino-Resina. Ricordiamo la Daniela Parlotta negli anni di assessore al bilancio, fatto miracoli, abbassamento delle tasse, praticamente azzeramento del debito del comune di Duino-Resina. Insomma un volto decisamente spendibile per la comunità. Bisogna lavorare tanto, questo è il suo messaggio. Ora ovviamente iniziamo un percorso fino al giorno delle elezioni. Queste le prime dichiarazioni della neocandidata, si fa così per dire, alla guida del comune di Duino-Resina. Grazie a te, viena bregina.